Grazie, buonasera, un saluto al Presidente Simoni, al Commissario del Governo Sant'Arella, a tutti i rappresentanti del mondo della cooperazione che oggi sono qua a tutta l'autorità civile presenti. Innanzitutto Presidente, complimenti a te e a tutto il tuo gruppo di lavoro che oggi siete stati legittimati dal vostro percorso interno e credo che, l'abbiamo capito anche dalla tua relazione, ci sia stato un forte senso di appartenenza di voi tutti al sistema della cooperazione. L'autonomia trentina in passato, oggi e nel futuro non può prescindere dal rapporto e dall'importanza che ha la cooperazione in diversi ambiti, economici, sociali, agricoli, in tanti ambiti della comunità trentina. E la cooperazione trentina contribuisce a tutto il sistema trentino e se definisco tutto il sistema trentino mi riferisco agli aspetti sociali, agli aspetti comunitari, agli aspetti economici, agli aspetti culturali. Il trentino nel 21 e nel 22 ha avuto numeri di crescita del proprio prodotto interno loro importanti, perché siamo stati del 6.9 nel 2021 e del 4 e mezzo nel 2022. Del 2023 vediamo che il nostro paese è quello che ha pagato di più l'energia e paradossalmente è quello che cresce più dalla media di certi paesi europei che hanno pagato meno l'energia. Questo fa anche un po' cosa sarebbe successo se l'energia avessero pagata ai valori degli altri paesi, ma lì c'è anche il trentino, lì c'è anche il trentino con quello che diciamo ha subito in termini energetici in questo periodo. Nello scorso che abbiamo sottoscritto un protocollo, un protocollo importante per la giunta provinciale su tante tematiche che sono tutte quelle che la cooperazione trentina rappresenta nel mondo della comunità, della comunità trentina. Un protocollo presidente che ho capito che dalle tue parole è molto pratico, molto molto concreto sulle varie cose, sulle varie problematiche, ma che se non leggiamo oggi rispetto ad un anno fa su alcune tematiche possiamo dire che sembra un protocollo di dieci anni fa, e quindici anni fa, perché pensiamo a cosa è accaduto il tema di energia e quindi cosa abbiamo dovuto mettere in moto con la vostra collaborazione, anche con le vostre idee, la vostra lungimiranza, il termine energetico, l'hai detto nella tua relazione, ma non è che si pensasse un anno fa, un anno fa, due anni fa, a queste tematiche rispetto a quanto è accaduto con il costo dell'energia e questo è un tema di sostenibilità ambientale, di questo discorso l'ho toccato più volte, è un tema di attenzione alla crescita ambientale, è un tema di transizione e transizione ecologica, è un tema sul quale occorre continuare ad investire, è un tema che sul tema basta, diciamo, sottoscrivere il protocollo perché qua il mondo cambia, perché il mondo è effettivamente cambiato e occorre continuare a implementarlo e ad innovarlo. E così è stato per esempio sulle grandi difficoltà che ha avuto l'agricoltura, soprattutto nel settore zooltecnico. Il costo dell'energia ci ha fatto sentire in modo importante su tanti settori, un settore zooltecnico in particolare e devo ringraziare proprio la collaborazione che la Federazione ha avuto per cercare di fare anche la giusta sintesi tra le varie sensibilità e le varie tematiche che hanno rappresentato le difficoltà di quel settore, perché quel settore è un settore che rientra anch'esso all'interno di un trentino sostenibile, di un trentino che guarda alla transizione ecologica, perché se non manteniamo i nostri agricoltori sulle montagne, se non manteniamo le nostre aziende agricole, in questo caso le aziende zooltecniche, poi ne avremo anche una conseguenza importante in termini di gestione ambientale, in termini della gestione dell'ambiente. E anche il tema dei molti servizi ha pagato questa situazione, l'ha pagato due volte, l'ha pagato sui costi energetici, perché mantenere un piccolo servizio, vedo qua anche il presidente di cooperativa, molti servizi tre anni fa, due anni fa, da un costo, mantenerlo nel costo del 22-23 ha avuto tutt'altro costo collegato al fatto che le famiglie trentine, come tutte le famiglie diciamo nazionali, hanno subito anche il costo dell'infanzione e quindi il costo della vita che è cresciuto e il caro vita. Su questo io credo che c'è da esserci una forte attenzione anche da parte della giunta provinciale sul tema del caro vita e su questo vogliamo lavorarci, ci stiamo lavorando per i prossimi mesi. però il mantenimento di un piccolo servizio, molti servizio di comunità deve andare oltre a quegli costi, a un picchiano temporaneo che sono stati, dell'energia, a quel caro del potere d'acquisto, un picchiano temporaneo delle famiglie e quindi deve esserci rapporto giunta provinciale, della cooperazione per mantenerli in vita perché quello ha un valore sia economico, un valore commerciale, ma un valore sociale tradizionale per alcuni piccoli paesi che è determinante. Abbiamo discusso, come ha detto il Presidente, recentemente del tema delle cooperative sociali e questo occorrerà fare la giusta attenzione, siamo stati puntualmente precisamente sensibilizzati dal vostro Presidente e dal vostro Direttore, quindi da parte nostra ci sarà la giusta attenzione rispetto anche ai cambiamenti che stanno venendo avanti, così come al tema degli appalti, c'è il codice appalti nuovo che viene avanti a livello nazionale, noi dobbiamo cercare, perciò ovviamente l'ambito della trasparenza e della concorrenzialità ci permette, dobbiamo cercare di riuscire a tutelare quei particolari settori dove non possiamo ragionare solo economicamente, i sottori sono molto spesso quelli sociali, ma dobbiamo ragionare anche socialmente con la continuità e la particolarità che un servizio di quel tipo riesce a dare agli utenti. Concludo qua, rinnovando la volontà continua e costante e concreta, sottolineo, nel senso guardando i problemi per quelli che sono, sapendo che ce ne sono ancora tanti sul tappeto che non siamo stati in grado sicuramente di affrontare o di risolvere, però credendo che con il giusto rapporto e la volontà di affrontare le problematiche riusciremo ad affrontare delle diverse difficoltà. Grazie e buona domanda. Grazie, grazie Presidente Fugatti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.